E' con grande soddisfazione che siamo riusciti come prima commissione a trovare la maniera di fare un corso di bilancio assolutamente gratuito, è il nuovo modello di bilancio consolidato 2016 che gli enti locali dovranno recepire sia nel prossimo anno e anche in quello dopo, massimo tempo dato. Fra l'altro è una cosa che viene proprio in stile 5 Stelle perché è proprio un attivista del nostro movimento del Veneto plurilaureato, ha dato grande disponibilità, fa dei corsi gratuiti a sue spese quindi io direi di fare un ringraziamento a Gabriele Pernichele, il primo dei non eletti in Veneto quindi lo ringraziamo anticipatamente, questo corso verrà presentato sui nostri canali Movimento 5 Stelle Toscana a cadenza settimanale, quindi ecco, buon studio e buon supporto per i nostri attivisti che sono in Consiglio Comunale imparare per cambiare finalmente questo paese. Un saluto a tutti!